E' stato il Cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a tagliare questa mattina il nastro di Casa Terno, residenza per persone con disabilità presso il centro Don Norione di Via Terno a Pescara. Si tratta di un appartamento di circa 300 metri quadrati in cui sono state ricavate 9 camere singole, autonome oltre a spazi condivisi. Vi saranno accolte già dei prossimi giorni 7 persone che non hanno più il sostegno dei familiari perché sono venuti a mancare o sono troppo anziani. Si entra così nell'ambito del cosiddetto dopo di noi. Dice San Paolo che la carità vince tutto, quindi oggi chi ha vinto è veramente la carità. E la carità si sprigiona direttamente dal cuore di Dio perché Dio è amore e contagia gli uomini. Ecco, io ho respirato un clima buono stamani, non solo per un'opera buona fatta che tutti sono in grado di poter valorizzare, apprezzare, eccetera. Ma ciò ho sentito veramente stamani da parte di tutti, cominciando da quei ragazzi che erano lì ad assistere e che ogni tanto qualcuno di loro a modo suo partecipava con qualche grido, come fanno sempre anche quelli dei miei quando li vado a visitare. Era il profumo della carità che si respirava. E non poteva mancare un accenno anche da parte del Presidente dei Vescovi italiani sul conflitto in Ucraina. L'auspicio è quella di una pace, la pace del Signore. Sì, bisogna fare di tutto per raggiungere la pace. Ora sembrerebbero che ci fossero varie forze, varie nazioni che convergono fra di loro, perché la pace va trattata, quindi bisogna cedere qualche cosa da tutte le parti. Se uno pretende di portare soltanto le proprie ragioni o le proprie presunte ragioni, non arriveremo mai alla pace. La pace è un accordo e speriamo che dopo questo massacro che è successo, perché nessuno di noi ha il presentimento, per esempio, del numero delle vittime, dei bambini che sono morti. È stata una tragedia in mane questa qui, nel cuore dell'Europa.